ok nintendari benvenuti prima di tutto andate nel canale iscrivetevi e schiacciate sulla campanella per avere tutte quante le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora andiamo ok andiamo a giocare a un nuovo gioco ringrazio chi ce l'ha data chi ce l'ha dato lo studio che ce l'ha dato e adesso atomic dovrebbe essere se l'ho sbagliato a schiacciare dovrebbe essere atomic ci piega un po perché è un po lento ma ce la possiamo fare mi serve e sono stati loro a darcelo per cui ringrazio tantissimo loro e ora iniziamo a giocare a tommy ne atomini si chiama se penso che non abbia volume ok l'hanno fatto insieme a loro e strano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ecco un cubo un cubo nuova partita continua nuova partita ah è un gioco a scurimento 0 0 0 0 sì un po da capire all'inizio parte subito la usa musica ti sconcentra subito però Ah, ok, da questo capiamo un po' di più Intanto vi rimetto a posto la telecamera Ok E iniziamo Passa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è nessuno lì qua. Bene, è stato bellissimo, energico. Nuova modalità sbloccata, energico. Niente, questo era il gioco Atomic. Ringrazio lo studio per avercelo dato. Poi troverete sui social la nuovissima recensione. E niente, questo è Atomic. Un nuovissimo gioco della casa produttrice che vi ho detto. Per cui, andate a scaricarlo nel Lea Shop e lo troverete nuovissimo, come tutti quanti. Ciao! Sempre e soltanto Nintendo. Ciao!